del bocconcinato bisogna mettere bisogna provare quel manganetto di citrato no, ci come anche un lignamento stiamo salutando allora questo che cos'è? questo è l'acido cetrico che si mette benvenuti nel magnifico mondo di bocconcitro una cucchiaia cucchiaia di legno cucchiaia di legno su youtube lo deve nominare bocconcino super prego dottore questo ne ma 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 cos'è come sta a dicevolare? un sacco di desquick un sacco di desquick un calio un calio un calio con distrizio e calio prendi la faccia che cos'è il calio? spiega serve a far coagulare il lato un coagulante bisogna fare molto un attimo spiega praticamente quello là è in escalarazione giusto? infermieri lei deve lasciacquare il bisturi io sono un'anestisista scusi non vedi che ho l'anestisista in mano e io ho l'altro scelto potremmo spiegare o no? adesso questa la prova la prova del cuoco la prova del cuoco questo è il bongo tre due uno questo per vedere la pasta deve filare vedi? siccome non fila spezza vuol dire che abbiamo messo poco acido ah quindi si mette l'altro acido la squadra del pomodoro si per beverone un legno antico un salto l'altro quaglio l'altro quaglio l'altro quaglio stiamo facendo un'altra prova stiamo superando i 300 litri così è sempre a prova 50 non raggiunge è una posizione proprio pre ma guarda che tappisci faccio rompere il pentolo di Pasquale ok ma no per te qua caduto in salate oddio ok 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 ti do alci beh ma se metti a dipito la 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 questa paraccia è una spesciante ma va ah 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 Antonio ma poi ah oh eh basta guarda che guarda che guarda che guarda che lo scelotto rarrodi 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 questo è lo stecchetto del maxi ma di un po' di più rarrodi un po' di più e non rarrodi rarrodi vado e non rarrodi rarrodi come si chiama la mazza? ramina ho pure stampato e io lo stampato ma me tu sono molto atti chi è che immaginiamo? come vedi che hai scavato? eh? tu non hai pensato che hai scavato? tu non hai scavato? sei fin che hai fra vuoi vuoi? che pericoloso ci fai te 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 se non lo vieni non lo vende proprio si, che se la questa la prima può diventare rudi secondo me è per dei famosi c'è tre vigniare in mare io sempre sognato di dare un morso con la base quando ti dai che il gas ah no, è male così si, stai lasciando un po' di ciò ebbene, prendila così quando si parla eeeh 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 Dio! Ma che vuoi fare? Guardi! plusichta! Via! 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 Non mi forano i tuoi bl film! Non mi forse! Non mi hai fatto capire il bolloncino! Di salate a piedi? Volevo a vedere come li fanno. Che scherzi? Cos'è? Un applauso! Noi ma si! Basta il tiro di! Ha sentito! Ma che non perde! Dai! 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 Dai, dai! 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 Di! Di! La... Ma perché cazate sempre sei che scusate a cuore di cinese, tu! Perfetto! Andra a parte! Non c'è... No! Non c'è che cosa? Hellu! Alla bella... Non c'è... No! Bellissimo! Ma facciamo dare catalogare! Ma facciamo dare carabine! Ma venito! Ma venito! Quante cose buone! Bravo, bravo! Tre! La prima cera! E adesso non c'è più! Ma adesso, vai un altro video! Guarda, aiuta! Guarda, lo faccio! Guarda, lo faccio! Guarda! Guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Che fai, Pedro? Guarda, guarda! Tu non hai un tot, non ce li fai mangiare! Guarda, guarda! Vai vedere, vai vedere! Benvenuti! Guarda, guarda! E' proprio buono! Dalla ditta al consumatore! Ehi! 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 stavano la violenza ho guardato ho guardato esiste no ma non c'è che c'è il posto all'interno il posto all'interno dopo il nodo la pizza ma anche il mio faccio la stessa sottocchietta la macchina di stessi ieri roma a la